mamma mia come sto non mi sento tanto bene no l'altro giorno il solito tardatore tu preciso tu caruccio tu pettinato questo mi fa la visita e poi mi fa acipone ti sono rimasti sei mesi di vita poi non avevo soldi per pagare la visita e questo mi ha dato altri sei mesi mamma mia come stai pure te